È arrivata l'estate e arrivano le prime importanti manifestazioni nel centro cittadino l'8 di giugno, ci sarà la notte dello shopping nel quadrilatero commerciale di Pescara. Sessore Corsi. Sì, la prima iniziativa dedicata al commercio di una serie di manifestazioni che abbiamo programmato per la stagione estiva. Un'iniziativa importante perché coincide con l'inaugurazione del centro commerciale naturale su cui abbiamo investito 100.000 euro. Passiamo dalle parole ai fatti con una manifestazione che animerà tutto il centro, tutte le aree pedonali, compreso di Corso Vittorio Emanuele e Via Nicola Fabrizzi. Ci saranno spettacoli, musica, concerti, animazione, food e soprattutto negozi, aperture straordinarie dei negozi fino a sera. E questa è la prima importante iniziativa di tante altre che poi seguiranno nel corso dell'estate soprattutto per quanto concerne il commercio. Avremo tante manifestazioni dedicate al commercio, ripeteremo l'iniziativa il 7 luglio in occasione dell'avvio dei saldi, poi andremo avanti il 14 agosto con la grande notte dell'Adriatico e l'11 agosto con un'altra notte dello shopping dedicata al commercio. La novità di quest'anno è che ognuna di queste serate sarà tematizzata, quindi avrà un tema. Quest'anno la prima, quella di venerdì, sarà dedicata allo sport in occasione dell'avvio dell'Ironman, poi ci sarà quella del 7 luglio che è dedicata prettamente ai saldi e l'11 agosto avremo la notte degli anni 50 e 60. Quindi davvero tante iniziative che animeranno l'estate nella nostra città e anche sabato ci sarà una bella iniziativa all'Arena del Mare con il Samsara che sarà una grande festa per i giovani a partire dalle ore 19. Grazie a tutti.